tre punti e qui non si discute, sono tre punti oggettivi, analizziamo come sono arrivati intanto buonasera a tutti i tifosi viola e non da Lorenzo Mancini, benvenuti nel post partita di Spezia Fiorentina terminata 1-2 in favore della squadra di Vincenzi Italiano e mi raccomando prima di iniziare like al video, commento scrivendomi le vostre sensazioni, una condivisione del video e se vi va anche naturalmente un'iscrizione al canale che male non mi fa ed è anche gratuita. Iniziamo appunto con l'analisi della partita partendo dalla formazione schierata da Italiano inizialmente, difesa giusta magari non so perché Martinez Quarta non si faccia giocare sinceramente nonostante appunto non sia squalificato almeno per il campionato ma si vede comunque Igor stasera a parte qualche piccola incertezza, ah non ha fatto male, centrocampo obbligatorio quello lì, uno poteva discutere sul fatto, Castrovilli, Duncan eccetera eccetera ma comunque alla fine abbiamo visto che insomma su Castrovilli abbiamo fatto un accanimento terapeutico, lo abbiamo capito tutti a questo punto. Speriamo anche oggi è servito a poco e purtroppo deve rispondere presente a queste chiamate Castrovilli, deve essere più incisivo nella manovra naturalmente. E là sull'attacco io non lo so, sarò che magari sono uno di quelli che ci riedeva sin dall'inizio ma ci avrei puntato un pochino di più sui conè, ha fatto bene Nico Gonzalez oggi forse uno dei migliori in campo della Fiorentina, giusto a schierare sottile per dargli comunque continuità, oggi meno incisivo rispetto alle altre volte ma a parer mio un pochino meno servito. E Piontech, poi su Piontech dopo apriremo un po' una parentesi. Quindi la formazione iniziale tutto sommato ci sta benissimo. Partiamo sull'analisi del primo tempo andando a rivedere quali sono state le azioni salienti, al sedicesimo subito il rigore sbagliato da Piontech e anche lì individuiamo noi un nostro rigorista anche perché se no qua ragazzi negli ultimi tre Genoa, Cagliari e anche oggi si continua a sbagliare i rigori. Anche lì chi diceva dell'innominabile che segnava solo i rigori, sì ma come voi vedete bisogna buttarli dentro i rigori, quindi non c'è altra strada. Che poi si rifà dopo un primo tempo dove la Fiorentina domina con un possesso palla esagerato, con il 76% di possesso palla, riesce addirittura a concludere il primo tempo con questo gol di Piontech con una buonissima apertura di Castrovilli verso Malek che controlla e lì però la cosa speciale, lasciatemelo dire, la fa Odriozola. La menzione d'onore in questa partita anche a Odriozola, una partita tutto sommato ordinata, non mi sembra sia andata in difficoltà in difesa ma in attacco ha spinto parecchio. E lo zampino del gol dell'1-0 ce l'ha messo pure lui perché intervento su un maggiore a metà campo che a parer mio poteva essere considerato falloso. Sinceramente diciamo che quando c'è stato un po' di silenzio post-goal per un controllo al VAR ho temuto che avessero notato il fallo di Odriozola che sportivamente dico poteva starci. Però comunque ha continuato a crederci in relazione, ha tagliato in mezzo sul cross di Malea, ha fatto velo e poi Piontech stop e gol da Tapin praticamente buttato dentro. Nel secondo tempo la Fiorentina scende in campo comunque convinta, però ecco qui ad esempio la Spezia fa dei cambi abbastanza che obbligano la Fiorentina a alzarsi sempre di più e quindi a rischiare la manovra perché tolgono la punta un pochino molto più di peso statica che è Manai e mettono Zola, Colle, Agudelo che sono giocatori che per ripartire in contropiede ti aiutano parecchio. Quindi magari abbassano un po' il baricentro e questo purtroppo poi ha la lunga porta all'errore di Amrabat che aveva fatto una partita ordinata, almeno in fase di pressing, sulla fase di gestione un po' meno e la fase di gestione non ottima si concretizza con questo mancato retro passaggio scelerato che poi è stato un momento che ha avviato un bruttissimo quarto d'ora della Fiorentina dove lo stadio della Spezia si è infocato praticamente e quindi ha fomentato i calciatori e quindi è passato quel quarto d'ora tremendo dove addirittura portarla a casa sarebbe stato un miracolo, avevo scritto dei miei amici in chat e alla fine è stato un penso miracolo portarla a termine questa partita vincendo due tre punti a casa in trasferta perché poi lo stesso Amrabat che aveva da gol subito a gol fatto dopo un controllo pensato ragionato su assist di Cabral, su suggerimento di Cabral tira e segna pescando il gol del lunedì. Ecco questo è il riassunto della partita di oggi e poi si conclude diciamo con una giusta gestione di palla della Fiorentina che ora vado a vedere le statistiche ma durante tutta la partita il 67% di possesso palla, 21 tiri, solo 4 in porta. Questo è un dato che un po' non dico debba preoccupare ma deve far riflettere alla qualità del tiro che molto spesso non è ottimale. Ecco in questa Fiorentina 2.0 chiamiamola così. C'è da dire che la partita dello Spezia è stata abbastanza... insomma se avessero portato il pareggio a casa mi sarebbe veramente dispiaciuto perché insomma non è che abbiano fatto tutto sto granché. Una buona fase di pressing nei primi 20 minuti e ci ha portato un po' in difficoltà ma poi per il resto lasciatemelo dire non è che abbiano fatto un ganché. Andiamo a dare i voti al volo. Terracciano rischioso su certi passaggi scusate su certi movimenti anche da parte sua però diciamo che anche sul primo gol di Agudello poteva fare un po' meglio. Ha difeso un po' troppo il primo palo secondo me secondo me modesto parere di uno che non ha mai fatto il calciatore. Gli diamo un 6 meno di incoraggiamento. La difesa. Biraghi. Gli diamo un 6 più a Biraghi in una partita onesta. Anzi 6 e mezzo perché con la traversa finale ha colpito. A Igor gli do 6 più. Una partita ordinata. Milenkovic 6 e mezzo. Altra partita di statura. Il gol subito non è certo colpa sua. Odriozola. Molto bene in fase offensiva. Abbiamo visto oggi solo per il gol gli darei per il gol. Quell'assist di Velaghi. Fateli darei 7 e mezzo. Un pochino più di copertura in fase difensiva e non sarebbe alla Fiorentina naturalmente. Però una partita sommata da 7 quella di Odriozola. Mi è piaciuta molto. Castrovilli. Anche oggi insufficiente. 5 e 6. Mi dispiace. Amrabat. Allora. Nel computo generale gli devo dar 6 ragazzi perché lì per lì diciamo ti fa stringere le chiappe con quel mancato retropassaggio e porta il gol di Agudelo. Tra l'altro il gol dell'ex. Mi ha preso il gol di Agudelo. Lasciamo stare. E poi comunque pesca il gol del lunedì. Quindi comunque il tutto si equilibra e gli do un 6 Amrabat. Che però tolto il retropassaggio se uno legge la partita in chiave totale non ha affatto male né in fase di impostazione né in fase di pressing. Anzi molto bene in fase di pressing. C'è da dire che in fase di impostazione ha voto un po' lento e un po' macchinoso rispetto a un Torrera ma naturalmente quello è il ruolo di Torrera. Non è il ruolo di Amrabat appunto. Che è adattato al ruolo di regista ma anche oggi non ha sfigurato. Ripeto tolta quella nota di demerito appunto. Malè bene bene gli voglio dare 6 più a Malè comunque per una buona partita. Lo volevo più incisimo in certe occasioni in certi passaggi un pochino più prorompente. Ottimo la sua qualità di inserimento. Ottimo l'assist che è stato suo. D'altronde se non sbaglio adesso vado a vedere ma dovrebbe essere stato solo quello per Pionte che lo danno a lui naturalmente. Però è una buona partita. Dai diamogli 6 e mezzo a Malè giustamente. Nico Gonzalez una partita di luce e ombre perché all'inizio degli stop mi avevano subito fatto un pochino come dire irritare. Poi comunque sempre ottimi movimenti. Si procura l'ennesimo calcio di rigore. Secondo me potrebbe essere lui. È il prossimo rigorista. Attenzione. Almeno che non giochi avrà il titolare e che appunto diventi lui il rigorista perché lo era al Basilea se non sbaglio. Comunque Nico Gonzalez una partita buona di sostanza di corsa, di colpe di testa, di infastidio arrecato agli avversari della sua presenza. Qualche buon tiro un pochino più in fase di concretezza perché secondo me come dico sempre se lui trova i gol e si sblocca ci si può divertire tranquillamente. Sottile. Partita da 6. Ah Nico Gonzalez 6 e mezzo se non l'ho detto. Sottile. Partita da 6. Ordinaria. Da fastidio. Richie. Passala. Consiglietto mio. Passala ogni tanto perché a me mi piace un sacco. Passala. Piontek. A livello di sponde non siamo ai livelli di quell'altro naturalmente. Lo sappiamo. Ha fatto qualche passaggio interessante, qualche tocco interessante. Peccato per il rigore sbagliato. Peccato per il rigore sbagliato. Ottimo volta pin. Naturalmente importa. Sostituti. Duncan. 6. 6 per Duncan. Sostanza a centrocampo. Niente da dire. Icone è entrato alla fine per fare questa sorta di 4-2-3-1 o meglio ancora un 4-2-4 praticamente ma senza voto Icone praticamente. Anzi no. 8 per quel tiro dritto bellissimo di destro. Lui con i destro non ci sale nemmeno sull'autobus. Ha tirato quel destra diritto stupendo di sfogo quasi addirittura contro probabilmente un tifoso della Spezia. Saponara ha fatto qualche cosa di interessante se non sbaglio ma un 6 più ha. Insomma il solito movimento per rientrare per dare un po' fastidio e per creare più imprevedibilità tra virgolette rispetto a quella di Sottil. Cabral suo un assist tra l'altro quindi si può vantare di aver fatto quello. Abbiamo visto poco. Gli darei un senza voto a lui sinceramente. A Italiano gli do un 6 più perché comunque una partita gestita bene dalla Fiorentina salvo appunto quell'errore che tra il pressing che avevo detto sarebbe stato una delle chiavi della partita. Infatti siamo stati molto bravi da quel punto di vista e la buona gestione del vantaggio fino a quel momento era una partita veramente buona ma l'errore diciamo la valutazione italiano non si basa sull'errore di Amrabat ovvio. Però la partita è preparata abbastanza bene. C'è da capire ancora questo concetto di quarta che non mi è ben chiaro ecco soprattutto perché ce l'hai fantacalcio Vincenzo. Io te lo dico ce l'hai fantacalcio quindi per piacere mettilo. Anche oggi ho giocato in 10 per colpa tua. Ma detto questo noi saliamo a 39 punti con una partita in meno. Rimaniamo sempre ottavi. Siamo a meno uno dalla Roma. Siamo a meno tre dalla Lazio che per sconti diretti e per differenziarietti però non superiamo quindi saremo settimi teoricamente per adesso e teniamo un pochino giù questo verona che iniziava a darci un po' noia. Ecco nonostante abbia una partita in più. Molto probabilmente e qui chiudo il video si rigiocherà Fiorentina Udinese ma adesso non ci dobbiamo concentrare perché la prossima partita sarà tostissima e non so se vinceremo sarà contro l'Atalanta a mezzogiorno e mezzo di domenica. Comunque l'abbiamo sfangata l'abbiamo vinta contentissima per questi tre punti arrivati di Musetto proprio come direbbe un certo allenatore Livornese e sono tre punti che ci sentiamo molto molto stretti preziosissimi ci servivano. Ritorniamo a vincere in trasferta finalmente lo facciamo tutta una squadra molto molto noiosa. Detto questo ragazzi un saluto da Lorenzo Mancini e mi raccomando sempre sempre. Forza viola. Ciao!